Sì, stiamo chiudendo purtroppo dopo quasi circa 20 anni di attività. Siamo aperti dal giugno del 99 e niente, praticamente da più o meno un annetto che c'è a parte che le cose non vanno più come andavano prima e nonostante abbiamo una glendela direi favolosa, parlano tutti benissimo dei nostri prodotti e abbiamo dei prodotti di prima qualità, però nonostante ciò questo non è bastato per ottenere. Perché state chiudendo? Stiamo chiudendo perché purtroppo le tasse sono arrivate proprio alle stelle, non riusciamo più a pagare le spese. Anche in affitto, siamo in affitto, quindi diciamo un po' di tutto, tante cose messe assieme. Molti lamentano il fatto che a Mussomedi ci sia uno spopolamento, ci sono meno persone, è vero o non è vero? Sì, certo. Le persone vanno, se ne vanno perché per farsi un futuro altrove e questo ha contribuito pure a non andare più avanti. E l'isolamento di Mussomedi? Tanti per il fatto che sono fuori non abbiamo più quella glendela che avevamo tanti anni fa, neanche la glendela si è dimezzata di molto. A coloro che si apprestano ad aprire una partita IVA cosa si sente di dire? Lo sconsiglio per chiunque voglia aprire un'attività perché è difficile, molto difficile. E ora? Dopo aver lavorato per vent'anni qua, ora ci sentiamo spaesati. Non sappiamo veramente dove andare a cercarci un lavoro. Poi abbiamo anche una bambina, una bambina piccola di quasi sei anni e quindi a cui dobbiamo dare un futuro. Però siamo qua, ora come ora mi sento di dire che non siamo delle mani di nessuna.